Con la professoressa Maria Perticone che è il responsabile scientifico del congresso calabrese SIO ma che è anche il presidente regionale di questa società appunto italiana Obesità ci confrontiamo per capire perché avete organizzato questo congresso, perché l'avete organizzato qui all'università e perché lo abbiamo visto dai partecipanti, avete immaginato di coinvolgere molti medici che al di là della specializzazione specifica ogni giorno evidentemente incontrano pazienti con questo tipo di patologia Beh, l'obesità ormai è inutile che ce lo nascondiamo, è una patologia che ha delle dimensioni pandemiche è una vera e propria pandemia quindi interessa milioni di persone in tutto il mondo e l'Italia purtroppo non è immune da questa pandemia e in particolare la Calabria per cui questo congresso ha un duplice significato, un significato istituzionale perché appunto è il primo congresso regionale della società italiana dell'obesità e anche vuole essere un messaggio di speranza e un messaggio concreto di affiancamento al paziente obeso che molto spesso non viene considerato anche da noi stessi medici come un paziente bisognoso di cure al pari di un diabetico, al pari di un malato di reni e purtroppo l'obesità si associa a tante altre patologie, non viaggia mai da sola viaggia con l'ipertensione, viaggia con il diabete per cui è una patologia pericolosa che necessita di essere curata e ci sembrava che lo scenario dell'università fosse il migliore e viste le tante figure professionali che abbiamo coinvolto e vista anche la grande e inaspettata partecipazione che abbiamo avuto Ascoltando le relazioni, nonostante appunto sia un convegno di medici abbiamo sentito parlare molto di alimentazione non solo quindi di medicamenti, di medicine, di farmacologia di terapie a base appunto di farmaci l'alimentazione è quindi centrale per affrontare questa pandemia come lei l'ha definita? Assolutamente sì, l'alimentazione è l'approccio terapeutico di base per questi pazienti e soprattutto deve passare il messaggio che l'alimentazione corretta deve durare per tutta la vita non si limita soltanto alla risoluzione del problema obesità ma una volta che il paziente con l'alimentazione associata alla terapia farmacologica, all'attività sportiva eventualmente alla chirurgia raggiunge il suo stato di salute ottimale l'alimentazione svolge poi un ruolo fondamentale per la prevenzione di malattie future e anche di ricadute dell'obesità perché purtroppo è una malattia cronica Rispetto alle cose che sta dicendo la medicina, la scienza, la ricerca che indicazioni hanno dato? Qual è lo sviluppo più recente degli studi? In ambito nutrizionale adesso siamo sommersi da una varietà enorme di approcci dietetici però quello che sta emergendo negli ultimi anni è sicuramente un'attenzione maggiore alla stagionalità dei prodotti e prodotti che debbano essere il quanto più possibile genuini, non raffinati e poi fare attenzione anche alla distribuzione dei macronutrienti nell'alimentazione mi riferisco a carboidrati, grassi, proteine per lungo tempo i grassi sono stati demonizzati invece studi recenti ci indicano che forse i macronutrienti più pericolosi sono i carboidrati e che i grassi invece andrebbero rivalorizzati per cui è un aspetto in divenire ma sul quale ci sono tanti studi in corso sicuramente Un'ultima domanda Lei nella sua relazione ha voluto concludere lanciando un messaggio che potremmo definire a dimensione umana cioè lei ha detto sì, ci sono delle regole ci sono degli studi, ci sono dei parametri, delle statistiche ma rendiamoci conto che alla fin fine parliamo di esseri umani ognuno dei quali è diverso alle sue caratteristiche Sicuramente il medico e mi sento di dire buttando acqua al mio mulino il medico internista che è quello che poi valuta un po' il paziente nella sua globalità deve essere il regista dell'approccio a questo paziente abbiamo visto nelle relazioni che ci sono tante figure professionali che gravitano intorno a questo paziente perché non dobbiamo perdere di vista la dimensione umana non dobbiamo perdere di vista la dimensione sociale del paziente obeso fare una dieta costa fare esercizio fisico costa e dobbiamo quindi ritagliare la giusta terapia sia dietetica sia farmacologica sia chirurgica sul singolo paziente e sulle sue singole malattie e i suoi vari aspetti della vita quotidiana